Pongracic, adesso prova a salire un po' il Lecce quando siamo al 27esimo del secondo tempo brutto pallone di Paschirotto, contropiede, Desserts, cerca questo pallone per Okereke, Okereke, Okereke parata miracolosa di Falcone, poi ancora Zanimacchia verso Pichel, direttamente sul fondo e qui è Pichel che cerca questa palla per Desserts e Okereke Okereke si presenta davanti a Falcone che para alla grande, occasione enorme per la Cremonese Okereke Grazie 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 Grazie